Ciao amici e buoni insieme, da Enrico ed Elisa. Oggi siamo a Dahlstadt, nell'alta Austria, a circa un'ora di macchina da Salisburgo. È un paesino fatto di casette di legno, antiche chiese, montagne e un lago che regala mille scorci suggestivi. Si gira a piedi e merita di essere ammirato sia dall'alto, sia a bordo di un battello. Il piccolo centro ospita un museo interattivo in cui viene raccontata la storia locale dalla civiltà preistorica ai giorni nostri. Poi c'è la piazza del mercato, circondata di edifici dipinti con colori vivaci, botteghe artigianali, ristorantini e i classici negozi di souvenir. Si può scegliere di salire con la funicolare e affacciarsi sullo Skywalk, una piattaforma che si staglia nel vuoto a circa 350 metri d'altezza. Alstad sembra proprio uscito dalle favole. Insomma, è una vera meraviglia. Pensate che l'UNESCO l'ha inserito fra i patrimoni dell'umanità e la Cina l'ha ricostruito tale e quale. Ed è per questo che attira tantissimi turisti asiatici. Speriamo di avervi incuriosito anche noi. Vi salutiamo con un... Auf Wiedersehen!